Mia madre viveva a Taranto. Stavo in ufficio a Roma. Mia madre viveva a Taranto con mia sorella. Ad un tratto sento freddo, molto freddo, eppure la stanza era riscaldata. Mi invade il pensiero forte di mia madre. Continuo a lavorare, ma il cellulare mi chiama. Mia sorella mi dice che nostra madre è morta mentre andava a fare la spesa. Perché il freddo? Commento. Perché l'evento paranormale assorbe una grande quantità di energia nell'ambiente in cui accade.